Ciao, sono Daniele Di Giobagno. Oggi siamo qui a presentarvi il mobile lavatoio Reno. Il mobile lavatoio Reno è realizzato nelle insure di 60x50 cm di profondità. Lo vedete ora montato su un mobile bianco a due ante realizzato in nobilità di idrofugo. Nobilità di idrofugo ciò significa repellente all'acqua. Ovviamente consigliamo l'installazione del mobile lavatoio Reno in un ambiente chiuso o in un angolo lavanderia. Non è idoneo per essere installato completamente all'aperto. Il mobile Reno è realizzato a due ante. Come vedete ha un ampio vano sottostante. Ricordiamo che qui nella vasca sarà necessario l'installazione del sifone che troverete nei prodotti correlati qui sotto. Il mobile lavatoio Reno monta una maschera in ceramica molto capiente dalle misure di 60 cm di larghezza per 50 cm di profondità. Ricordiamo che è profonda ben 33 cm. Il lavatoio Reno ha una predisposizione per la rubinetteria sia a centro-destra che a centro-sinistra. Se non richiesto arriverà direttamente a casa con la predisposizione dei fori ma non forata. Quindi sarà necessaria un'installazione a parete. Cominato alla vasca in ceramica Reno qui vediamo la comodasse in legno che è un accessorio del lavatoio che noi consigliamo vivamente di acquistare. In quanto è realizzata in legno di abete di primissima qualità e trattata con vernice poliuretaniche. Quindi è una tavola di uno spessore già di 2 cm e con il trattamento che ha sarà durevole nel tempo e permetterà un doppio uso al lavatoio Reno. Vediamo come. Se posizionata in piano sul lavatoio in fase di non utilizzo sarà un comodo piano di appoggio. Oppure se ruotata e posizionata nel lato dove ci sono le scalanature sarà un comodo piano di lavaggio. In quanto il lavatoio in ceramica Reno ha gli incassi proprio per questa tavola. Quindi posizionata in questo modo si sfrutterà il lavatoio come un comodo lavapanni in fase di utilizzo. La tavola è possibile reperirla qui sotto nei prodotti correlati. Il mobile lavatoio Reno monta dei piedini alti ben 14 cm quindi sarà molto facile la pulizia sottostante al mobile. L'altezza totale è di 92 cm più i 2 cm dell'alzatina della ceramica. Ricordiamo per l'installazione una volta che vi arriva il prodotto in casa sarà sufficiente montare i piedini e le maniglie degli sportelli. Sarà sufficiente montare la sifoneria e comunque fissare a muro con del silicone consigliamo per fermare tutta la struttura in modo tale che sarà ancora più stabile in utilizzo anche se così è molto già stabile di per sé. Tra gli accessori troviamo il pensile a due ante delle misure di 58 x 58 cm molto ampio con un comodo piano di appoggio regolabile all'interno. Anche questo lo trovate nei prodotti correlati qui sotto. Ricordiamo che il mobile lavatoio è già in pronta consegna nei nostri magazzini e vi sarà recapitato a casa in 24-72 ore a seconda delle disponibilità e a seconda degli ordini che ci sono in corso. Montato sulla vasca Reno troviamo il monocomando al lavello Sprint della ditta Frisone realizzato in cromo e di colore bianco matt. Un colore bianco molto particolare che si abbina all'arredo di tutta la lavanderia e renderà l'ambiente molto più gradevole. Ricordiamo che la ditta Frisone è un prodotto italiano e un Made in Italy garantito. Tutta la lavanderia, mobile, vasca, rubinetto e pensile sono prodotti Made in Italy realizzati qui nel comprensorio di Civita Castellana dove Gio Bagno risiede. Ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.